Capitolo 8 L'inseguimento attraverso gli alberi Presi ad avviarmi a lunghi passi per il sentiero che correva lungo la costa dietro la casa, senza sapere dove andassi. Quindi oltrepassai un folto gruppo d'alberi dalle cime azzurre che proiettavano una larga ombra, e mi trovai dall'altra parte della costa che scendeva verso un rigagnolo che scorreva attraverso la stretta vallata. Mi fermai e rimasi un istante in ascolto. La distanza a cui ero giunto e i folti boschetti che si interponevano smorzavano tutti i rumori che potevano arrivare fin là dal recinto. L'aria era tranquilla, un lieve fruscio, poi sentii saldar fuori un coniglio e lo vidi allontanarsi giù a balzi per il pendio. Esitai ancora, quindi mi sedetti sul margine dell'acqua, all'ombra. Lasciai errare per un po' i miei sguardi su quella scena, ma poi il mio pensiero si rivolse nuovamente alle strane caratteristiche di quel bizzarro servo di Montgomery. Il caldo, però, era troppo intenso perché potessi dar vita a un ragionamento profondo, e mi assopii in un tranquillo stato di dormiveglia. Non so quanto tempo rimasi così. Ad un tratto fui svegliato da un fruscio che proveniva dal folto degli alberi situati dall'altro lato del ruscello. Per un momento non riuscì a distinguere altro che l'ondeggiare delle felci e dei roseti, e poi, improvvisamente, apparve sulla sponda di quel rigagnolo un essere che dapprima non riuscì a qualificare. Lo vidi chinare la testa sull'acqua e cominciare a bere, poi mi accorsi che ero un uomo, ma un uomo che camminava a quattro zampe come un animale. Vestiva un abito azzurro, aveva le carni color del rame e i capelli neri. Si sarebbe detto che la bruttezza fosse una caratteristica comune a tutti gli abitanti di quell'isola. Sentivo benissimo il rumore delle sue labbra che lappavano l'acqua. Mi chinai un po' in avanti per vederlo meglio, ma un ciottolo staccato dalla mia mano rotolò lungo il pendio. Quel bizzarro individuo alzò involontariamente gli occhi e i nostri sguardi si incrociarono. Si levò in piedi rapidamente e con la grossa mano si asciugò la bocca guardandomi fissamente. Le sue gambe erano lunghe appena la metà del suo corpo. Per un minuto rimase così fermo a guardarmi, poi si nascose fra i cespugli che si trovavano sulla mia destra, voltandosi ogni tanto fino a che potè, per continuare a guardarmi. Sentì allora il fruscio delle fronde farsi più lieve, di mano a mano che quello strano essere si allontanava, e finalmente non udì più nulla. Dopo che fu scomparso, rimasi ancora un po' di tempo seduto in quel posto rivolto verso il luogo dove era scomparso. La mia sonnolenta tranquillità era davvero sparita del tutto. Un nuovo rumore mi arrivò alle orecchie da dietro alle spalle, e allora mi voltai celeremente. Non vidi altro che la coda bianca di un coniglio che si allontanava correndo giù per il pendio. Balzai in piedi. L'apparizione di quella creatura grottesca e quasi bestiale aveva tutto ad un tratto popolato per me la calma di quel pomeriggio. Mi guardai attorno nervosamente e rimpiansi di non avere dietro delle armi. Ma poi pensai che quell'individuo da me visto era vestito di stoffa azzurrognola e non andava nudo come avrebbe fatto se fosse stato un selvaggio, e da questo ne dedussi che probabilmente doveva essere un individuo pacifico e tranquillo, e che la ferocia di cui lo gratificavo era tutta apparente. Confesso però che quell'apparizione mi aveva turbato parecchio. Mi avviai allora verso la parte sinistra della costa, voltando ogni tanto in giro la testa e spingendo lo sguardo attraverso i rami degli alberi, e non riuscivo a smettere di pensare a quell'uomo, poiché doveva essere realmente un uomo, che avevo visto camminare a quattro zampe e bere con la lingua come le bestie. I lamenti di un animale, forse il puma, mi giunsero all'orecchio e mi allontanai nella direzione opposta alla parte d'onde proveniva quel lugubre suono. Arrivai così vicino ad un altro punto del muretto che scavalcai, e continuai quindi a procedere in avanti verso la costa. Ad un tratto, scorsi sul suolo come una grande chiazza di colore scarlatto acceso, e avvicinatomi, riconobbi che era prodotta da un particolare fungo dai rami rugosi, come un lichene foliaceo, ma che si liquefaceva al minimo contatto. E lì vicino, all'ombra di una felce lussureggiante, una vista spiacevole mi colpì. C'era il cadavere di un coniglio tutto coperto di mosche brillanti che sembrava ucciso di recente e senza testa. Mi fermai inorridito alla vista di tutto quel sangue sparso in terra. Era uno degli esemplari trasportati nelle gabbie in quell'isola e che ora aveva raggiunto la sua ultima destinazione. Non vidi però altre tracce di violenza. Si sarebbe detto che quel piccolo animale fosse stato ucciso all'improvviso. Mentre stavo osservando il suo piccolo corpo peloso, pensavo al modo con il quale era stato eseguito quel taglio mortale. Allora, quel vago terrore che mi aveva assalito alla vista della faccia bestiale dell'uomo incontrato lungo il ruscello aumentò a dismisura nel mio animo. Pensai ai pericoli cui andavo incontro con quella mia spedizione in una terra sconosciuta abitata da esseri sconosciuti. L'oscurità delle cose che mi circondavano alterava la mia immaginazione. Così come ogni ombra mi appariva come qualcosa più di un'ombra. Ogni mormorio mi arrivava all'orecchio come una minaccia. Mi pareva quasi che alcuni esseri invisibili mi sorvegliassero. Risolsi di tornare verso il recinto sulla spiaggia. Mi voltai con estrema rapidità e mi inoltrai tra i cespugli quasi con frenesia, ansioso di uscire all'aperto. Ma mi fermai proprio in tempo, prima di giungere dove desideravo. Arrivato ad una breve scarpata formata forse da una frana, dove le piante cercavano di diradarsi emergendo da una folta vegetazione di steli, di erbe rampicanti, di funghi e di fiori, scorsi davanti a me, rannecchiate attorno al tronco muscoso di un grosso albero caduto, tre figure umane veramente grottesche. Una di esse era evidentemente una femmina, mentre le altre due erano uomini. Tutti e tre quegli individui erano nudi, con un panno rosso che li avvolgeva a metà del corpo. La loro pelle era di un color castano opaco tendente al rossastro, come non avevo mai visto in alcun essere umano, anche il più selvaggio. Avevano facce tozze ma sottili nel mento, fronti sfuggenti e i capelli radi e irsuti. Non avevo mai incontrato figure più bestiali di quelle. parlavano, o almeno uno dei tre parlava agli altri, ed erano tutti talmente attenti che non si accorsero assolutamente della mia presenza. Agitavano la testa e le spalle, intanto che le parole di quello che parlava si articolavano numerose e strascicate, e quantunque le udissi distintamente non riuscivo a comprenderne il senso. Mi sembrava come se si trattasse di un gergo assai complicato. Poi le sue parole diventarono più violente, e lo vidi alzarsi in piedi stendendo le mani. Anche gli altri allora si alzarono come se stessero salmodiando, quindi tesero le mani e agitarono i corpi ritmicamente, accompagnandosi con una specie di canto. In quel momento potei osservare la brevità delle loro gambe e la magrezza dei loro piedi tozzi. Tutti e tre presero quindi a girare lentamente alzando e battendo i piedi, scuotendo le mani, e intanto dalle loro labbra usciva come una specie di litania o ritornello che suonava prestapoco come un alula balula. I loro occhi intanto risplendevano, e le loro brutte facce si illuminavano di un'espressione di contentezza, mentre la saliva colava abbondante dalle loro bocche senza labbra. Ad un tratto, mentre ero intento a guardare quelle figure grottesche e i loro strani movimenti, compresi chiaramente per la prima volta ciò che mi aveva tanto colpito in quegli esseri e che aveva ingenerato in me la doppia impressione di un'esagerata originalità e allo stesso tempo di una certa familiarità. Quei tre individui intenti a compiere quello strano rito avevano forme umane, pur rammentando quelle di altri noti animali, e nonostante i cenci di cui erano coperti, nell'insieme dei loro movimenti rassomigliavano parecchio al maiale di cui avevano sia il colore che l'aspetto bestiale. Rimasi stupito da quella constatazione, e le più astruse domande presero ad affollarsi nella mia mente, intanto che quei tre esseri cominciavano a lottare schiamazzando ed urlando. Ad un tratto uno scivolò e rimase per un momento chino sulle quattro zampe. Poi si rialzò, ma non abbastanza sollecitamente perché io non fossi del tutto convinto della sua bestialità. Cercai di allontanarmi facendo il minimo rumore possibile, irrigidendomi ogni tanto per paura di far scricchiolare qualche ramo o di agitare le fronde, e mi nascosi di nuovo fra i cespugli. Trascorse molto tempo prima che osassi muovermi di nuovo liberamente. Il mio desiderio adesso era quello di allontanarmi da quegli esseri pazzeschi, e non mi ero accorto di essere giunto ad un piccolo sentiero che si apriva fra gli alberi. Prosegui lungo quella via, e nell'attraversare una breve radura mi accorsi trasalendo che due rozze gambe camminavano senza far rumore parallelamente alle mie, a trenta metri appena di distanza da me. La testa e la parte superiore del corpo di quel nuovo individuo erano nascoste da una densa macchia di erbe rampicanti. Mi fermai improvvisamente sperando che quella creatura non mi avesse visto, ma anche i suoi piedi si fermarono contemporaneamente ai miei, e allora fui preso da un tremito nervoso che mi rese incapace di fuggire. Guardando più attentamente, riconobbi tra il groviglio delle piante la testa e il corpo di quell'individuo che avevo poco prima visto bere nel ruscello. Quando rivolse la testa, nei suoi occhi vidi brillare una luce smeraldina sotto l'ombra proiettata dagli alberi, una luce che vidi apparire anche in un altro momento in cui egli piegò il capo. Restò fermo un istante, poi, senza fare nessun rumore, prese a correre in mezzo a quell'intrico verde di rami e in pochi secondi scomparve dietro ai cespugli. Non riuscivo più a vederlo, ma sentivo che si era fermato e che mi stava guardando di nuovo. Che cosa era mai quell'individuo? Un uomo o un animale? Che cosa voleva da me? Non aveva armi né un bastone, e la fuga da parte mia sarebbe stata ridicola. Ad ogni modo, quell'essere non aveva certo il coraggio di attaccarmi. Stringendo i denti con forza, mi voltai verso di lui, cercando con ogni mezzo di nascondergli la paura che mi gelava le vene. Mi spinsi attraverso gli alti cespugli coperti di fiori bianchi, e lo vidi a una ventina di metri di distanza che mi stava guardando di sopra alle spalle esitando. Avanzai ancora per uno o due passi, e lo fissai attentamente negli occhi. «Chi sei?» gli chiesi, mentre anche lui cercava di incontrare il mio sguardo. «No!» mi rispose quasi con violenza, e con un balzo si allontanò giù per il sentiero. Avevo il cuore che mi balzava in gola, ma compresi che solo l'audacia avrebbe potuto salvarmi, e continuai ad avanzare rapidamente verso di lui. Si voltò di nuovo, e poi scomparve nell'oscurità delle piante. Ancora una volta credetti di scorgere il brillio dei suoi occhi, poi non vidi più nulla. Per la prima volta mi chiesi se l'ora tarda non mi avrebbe procurato qualche spiacevole avventura. Il sole era tramontato già da qualche minuto, e il breve crepuscolo dei tropici già svaniva all'oriente lontano. Ad un tratto, una falena aleggiò vicino alla mia testa. A meno di non voler passare la notte tra gli sconosciuti pericoli di quella misteriosa foresta, dovevo affrettarmi a tornare verso il recinto. Il pensiero di tornare in quel luogo abitato dal dolore mi era assai spiacevole, ma ancora più spiacevole era l'idea di lasciarmi cogliere all'aperto dalle tenebre e da tutto ciò che in quelle tenebre si nascondeva. Gettai ancora uno sguardo alle ombre scure che avevano inghiottito quella strana creatura, poi ripresi la via lungo le coste dirigendomi verso il fiumiciattolo, pensando di ritornare laddonde ero venuto. Avanzai piuttosto frettolosamente, e mi ritrovai in un pianoro dove vi erano alcuni alberi sparsi. Dopo pochi secondi, gli alberi si diradarono ancora di più, e mi ritrovai sopra un promontorio che si protendeva nell'acqua cupa. La notte era chiara e calma, e il riflesso di miriadi di stelle tremolava sul tranquillo onteggiare del mare. Più in là, una lunga linea di scogli irregolari scintillava come di luce propria. Ad occidente, la luce dello zodiaco li irraggiava del giallastro brillio della stella vespertina. Ad oriente, la costa declinava dolcemente, mentre nella parte opposta era nascosta dal resto del promontorio. Mi ricordai allora che la spiaggia dove era l'abitazione di Moreau si snodava verso oriente. Un ramo scricchiolò dietro le mie spalle, e udì un fruscio. Mi voltai ancora una volta a guardare gli alberi, ma nulla mi apparve, o meglio, mi apparvero troppe cose, poiché ogni forma nera nell'oscurità assumeva ai miei occhi terribili contorni, ingenerando nel mio spirito una speciale suggestione. Un istante dopo, continuando con la coda dell'occhio a guardare gli alberi, piegai da un lato per attraversare quel promontorio. Mi ero appena mosso che anche una delle ombre nere si mosse per seguirmi. Il mio cuore batteva all'impazzata. La larga distesa della baia si apriva ad occidente davanti ai miei occhi, e allora mi fermai nuovamente. Anche l'ombra silenziosa si fermò ad una dozzina di metri da me. Vidi lontano un lumicino scintillare all'estremità di quella curva di terra, e la grigia estensione della spiaggia sabbiosa si delineò nella pallida luce delle stelle. Quel lume poteva essere lontano forse un paio di miglia. Per raggiungere quel posto avrei dovuto nuovamente passare sotto gli alberi fra i quali si nascondeva l'ombra, e scendere poi giù per la china in vasa dai cespugli. Ora riuscivo a distinguere meglio l'ombra che mi perseguitava. Non era un animale, poiché lo vedevo stare dritto. Aprì la bocca per parlare, ma non riuscì ad emettere il più lieve suono. Ritentai, e allora gridai «Chi va là?». Nessuno però mi rispose. Avanzai di un passo, ma l'ombra non si mosse. Solo mi parve si raccogliesse su se stessa. Il mio piede urtò un sasso, e allora mi venne un'idea. Senza levare gli occhi da quella figura nera, mi chinai a raccogliere il sasso, ma al mio primo movimento l'ombra si voltò rapidamente con movenze canine e corse a nascondersi nell'oscurità. Mi ricordai di un espediente scolaresco che si usava contro i grossi cani. Feci con il fazzoletto una specie di fionda che fermai attorno al polso, e vi posi a mo' di proiettile un sasso. Subito udì un movimento lontano proveniente dalle ombre, come se quel mio persecutore stesse battendo in ritirata. Quindi la mia eccitazione svanì. Un sudore abbondante mi collò dalla fronte, e allo stesso tempo cominciai a tremare. Il mio nemico si stava allontanando, ed io avevo ancora in mano la pietra con cui mi ero armato. Trascorse parecchio tempo prima che mi decidesse ad attraversare la piccola macchia di alberi e i cespugli che si addensavano sui fianchi di quella costa, per scendere fino alla spiaggia. Finalmente mi misi a correre, mentre nell'oscurità sentivo un altro corpo muoversi con fracasso dietro di me. Allora persi completamente la testa e raddoppiai la velocità della mia corsa, mentre i rapidi passi di quell'ostinato persecutore mi seguivano sempre. Ad un tratto emisi un grido selvaggio e raddoppiai la velocità. Una nuova forma, nera, grossa, tre o quattro volte un coniglio, venne correndo e saltando su dalla spiaggia verso i cespugli dove mi trovavo a passare, e ricorderò sempre l'impressione di terrore da me provata durante quella fuga pazzesca. Arrivato al margine dell'acqua, continuai lungo la riva, sentendo sempre lo scalpitio dei piedi in corsa che guadagnavano terreno. Lontano, ad una distanza veramente desolante, la luce gialla brillava sempre, ma lì intorno tutto era nero e la tranquillità della notte era rotta solo dallo scalpitio che si faceva sempre più vicino. Sentivo mancarmi il respiro, non essendo abituato a correre tanto, ed il fiato mi usciva stibilando tra i denti. Quando riuscivo ad emetterlo provava un dolore al fianco simile a quello della puntura di un coltello. L'ombra mi avrebbe certamente raggiunto prima che fossi riuscito a giungere al recinto ospitale, e disperato, singhiozzando quasi per respirare, mi voltai, e poiché il mio persecutore si trovava ora a portata di mano, cercai di colpirlo con tutta la mia forza. Il sasso, lanciato come un proiettile, andò a finire sulla tempia destra di quello strano individuo. Aveva corso fino a quel momento a quattro gambe, e solo ora mi si mostrava nuovamente diritto in piedi. Il suo cranio risuonò cupamente. Poi quell'essere, animale o uomo, cadde goffamente al suolo, si rialzò, mi respinse con le mani barcollando, quindi mi oltrepassò e andò a cadere a capofitto sulla sabbia con la faccia immersa nell'acqua. Non ebbi il coraggio di avvicinarmi a quella massa nera. Lo lasciai là con l'acqua che gli gorgogliava attorno, sotto le stelle tranquille, e allontanandomi mi avviai nuovamente verso la luce gialla della casa. Mentre provavo un infinito senso di sollievo, mi giunse il lamento pietoso del puma, quello stesso suono che mi aveva dapprima spinto ad allontanarmi per esplorare quell'isola misteriosa. Per quanto mi sentissi debole e tremendamente stanco, raccolsi tutte le mie forze e presi nuovamente a correre verso la luce. Mi era parso di sentire una voce che mi chiamasse.